Io credo, purtroppo, che tante persone non hanno ancora capito che cos'è successo il 29 di giugno del 2009. È successo l'inferno, qui, dove c'è il cartellone delle tartarughe lente, c'era la cassa di Marco. Proviamo a pensare che cosa è successo. È successo l'inferno, è finita la vita per 32 persone. E per tutti i propri familiari. E la società civile ha subito un po' di botta, detta la viareggina, dalla quale è difficile rialzarsi, dalla quale è dura, ma viareggio ce la fa, viareggio ce la farà. Allora...